Lavorandovi alla riscossa! Abita alle case popolari e c'è andia vai, dei mignotte tossici... Il Consiglio regionale sarà ricevuto dal Presidente della Commissione Lavori Pubblici a casa e poi ci sarà l'incontro con i capiluppo. I motivi della manifestazione li conosciate tutti, quindi i primi sono per chiedere che la maggioranza del Consiglio regionale vari una legge di sanatoria affinché non si continui con questo scempio degli scomperi delle case popolari. Vedi tanto vieni dimmi quanti impiccici hai, quanti pregiudizi, quante cose che non sai. Che da un lato c'è un bosco e dall'altro c'è una chiesa E da un lato c'è il mare e dall'altro c'è panni e scale Piove, 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 piove... Piove, piove...